...con il giubbino giusto e soprattutto grazie alla collaborazione del pubblico di Grazio perché con tanti amici che sono venuti dall'Italia, la prima domanda è ma veramente vi hanno fatto fare una manifestazione del genere o che guarda c'è una stretta collaborazione e sinceramente il bello è che ci fanno fare queste manifestazioni perché riescono a venire soprattutto con la cittadinanza e felice e questo soltanto grazie a voi e quindi abbiamo con noi l'assessore Pietro Perduzzelli che mi ringrazio perché grazie al suo contributo personale noi lo stressiamo quotidianamente e riesce a darci questi aiuti per realizzare questi eventi a te Pietro è stata la paniera, innanzitutto un caffè pagato ad Antonio per la presentazione ma in realtà chi ci guadagna è la città e quindi noi non possiamo che ringraziarvi per tutto quello che organizzate, per lo spettacolo che mettete in scena ogni due anni il Gran Premio, il Città di Bari è una cosa che esibiamo come una sinnetta non solo perché queste automobili sono bellissime e grazie a tutti i colori quali deciso di portarle qui ma anche a tutto quello che c'è in toro, grazie anche alla vostra professionalità vedo che c'è qualche squadro di paziente di chi vuole partire io nel frattempo ho messo il giubbotto di penne giusto anche se il clima della nostra città prenderà anche una giornata come oggi ci sfermo in giubbotto di penne di venire, di godere, la staremo qui tutta dalla giornata e anche domani mattina stiamo cercando sempre di più manifestazioni sportive perché questa è anche una manifestazione sportiva a rendere attrativa la nostra città ci stiamo uscendo e dobbiamo fare ancora molto grazie grazie all'assessore